Stai cercando un aperitivo a catania gigantesco ad un prezzo assurdo? Nel video ti dico quanto costa! Il tagliere è composto da tantissime cose particolari salumi, formaggi, grissimi viola, fritti e tanto altro per non parlare dei loro cocktail Il locale ha partecipato a 4 ristoranti e fanno anche delle specialità di carne come polpette al pullhead e spade incredibili Il locale si chiama Officine del Gusto e costa solo 10 euro a persona Tagga un amico che devo offrirtelo, salve il post e segui!